La giornata di Papa Francesco a Firenze è stata intensa e scandita anche da momenti di prossimità verso quanti la società tende a scartare, considerandoli quasi invisibili. La preghiera con gli ammalati e i disabili nella Basilica della Santissima Annunziata e il pranzo con i non abbienti nella mensa di San Francesco Poverino. Con l'ascolto, la presenza e gesti tangibili, la Chiesa deve mantenere un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente vive, con le sue lacrime e le sue gioie. E il Pontefice lo ha ricordato, celebrando la messa nello stadio comunale Artemio Franchi, precisando che sull'esempio del Figlio di Dio, l'unico modo per parlare ai cuori delle persone è toccare la loro esperienza quotidiana, il lavoro, la famiglia, i problemi di salute, il traffico, la scuola, i servizi sanitari. Nel corso dell'omelia, Papa Bergoglio ha ribadito che il Signore è sempre con noi, nella Sua parola che illumina le oscurità della nostra mente e del nostro cuore, nei Suoi sacramenti che ci rigenerano a vita nuova da ogni nostra morte, nell'amore senza confini che si fa servizio generoso e premuroso verso tutti, nel povero che ci ricorda come Gesù abbia voluto che la sua suprema rivelazione di sé e del Padre avesse l'immagine dell'umiliato crocifisso. Dal capoluogo toscano, testimone che l'umanesimo ha avuto sempre il volto della carità, Papa Francesco ha esortato tutti a costruire un mondo nuovo, dove nessuno è lasciato ai margini o scartato, dove chi serve è il più grande, dove i piccoli e i poveri sono accolti e aiutati.